profanoso pazza mi voglio male dai cosa vuoi fare di così cattivo? lo vuoi fare a tempo? mi voglio male ho detto buona fortuna quanto è il tempo? non ho guardato 1 e 40? o 2 minuti e qualcosa insieme al potere del padre di pingu ce la faremo aspetta eh voglio vedere aspetta fermo 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 buona la prima? no aspetta aspetta mori una volta a caso se ti risalvo per bene vabbè allora così ti risalvo per bene vabbè vabbè te la cerchi eh allora vabbè almeno una l'hai presa che vale corri corri forest una l'hai presa almeno non è malamente possibile se c'è questa roba è che voglio far veloce te non devi far veloce devi farlo e basta bravo erano 3 secondi tra l'altro ah nessun rancore se ti puoi ripartire sempre dall'inizio vero? no bene ok si ce la faremo si? sicuramente 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 ce la faremo tranquillo saltando sei lì almeno guadagni anche secondo se salti non c'è nulla hai solo perso al che secondo vabbè non ce la faremo mai a prenderlo oro però dai oro mai qualcosa possiamo riuscirci vabbè un giro più lungo no? no scherzi? no se facevi il rotolino potevi fare il rotolino vabbè si eh? aspetta ora quindi te lo organizzi anche? tanto mi sa che tutti i cosi laser sono sincronizzati sai ma ce li passano nel mezzo non è malamente possibile il Crash Bandicoot comunque secondo me i laser sono tutti sincronizzati ok devi fare il saltino piccolo ci ho provato non ti preoccupare se non ce la fai non è nessun problema salta no 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 non è umana sta l'altiveria dai sono sbagliato è andata l'altiveria lisciata è lisciatissima veda 3 grande e veda a te salta salta di carta vabbè hai fatto cose epiche no l'hai presa male vai no ce la potevi fare a passarlo sai ce la potevi fare tantissimo grande 3 secondi salta devi saltare quando stai lì vai non c'è nulla lì non non curarti di loro guarda e passa cheat sei ignorante bravo allora io sono ignorante perchè non ricordo da dove venga beh magari l'ho visto però non me lo ricordo sì sì è un video gioco sì no fai il cerchio potevi mentre correvi prendi il cerchio e fai la scelta quello becco non è accaduto niente hai capito ora più o meno la procedura fai saltino saltino ok volevi 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 prenderla eh volevi sì dai non c'è nulla lì ormai stanno facendo la stanza sì cazzo l'ho fatto io morendo solo meno di cinque volte ho capito ma è diverso sì vabbè a tempo è tutta altra cosa no ma se non se mi metti ansia perché ci metti 3 ore arrivi sì arrivi lì con la media dei cosi secondi vai più lento rush più lento più lento bravo grande salvagli sopra diretto oh no vabbè grande tutto prendi tutto hai doppio bugle corri salta vabbè fregatene va avanti ma che cazzo fa non hai fatto una cosa umana hai fatto una cosa di disumano vai grande io ho saltato l'importante è provare è quello l'importante corri sei andato preciso per farti prendere vai sì 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 era quello che dovevi fare tranquillo aspetta ora però non è non sono ancora dentro quindi sai che il vento divino era il coso vuol dire kamikaze lo so grazie adesso tutti quanti lo sapranno e ancora più gente mi potrà prendere per questo lato non me ne frega un cazzo non me ne frega un cazzo sei un terrorista io lo devo fare sì in realtà io sono dell'isis mio dio crash in realtà noi due siamo dell'isis ci siamo traditi da soli vai grande ti avevo già visto morto vabbè che se n'è vai di rondellino lì grande grande dovevi passare sotto devi passare sotto tanto bello crash che sta sul nulla eh è l'amore sì è l'amore faremo le vite qui gente non l'hai preso corri non ce la faremo mai questo tempo questo tempo ce la potevi fare invece ti giuro tantissimo ce la potevi fare si ora vai ora puoi scommettere se lo faccio io ci si riesce puoi scommettere? io dico di si quanto ci ha messo a morire scusa? quanto ci ha messo? eh siamo alti vuoi dire che è calcolato persino l'aldetta perchè c'è riponte e quindi siamo morti prima se no morivamo dopo 3 ore ti giuro se tu prendessi che la riusciresti a fare tantissimo tempo continuo a saltare lì fregati di tutto e tutti lì devi continuare a saltare oddio sembra c'è infernoso troll e fare il giro lì tipo passare lì accanto eeeh ci stiamo iniziando a fare il pro skill si vabbè il pro skill pro skill asiatico e da dove fa lì? ecco corri madonna ma perchè crash? mio dio ti faccio crashare ma avanti grande salta no non è caduto non è caduto ahahahahah ahahahahah cos'era questo nomato per incredibile corri basta e fa provvedere si? basta vedere ci arrivo io lo faccio subito vuoi vedere? questo vorresti dimostrare eh che questo che ce ne hai? no che sono pro vai continua a saltare salta anche ando in laser è ancora attivo salta si guadagna un pochettino ok comunque si questo gioco è il male vai altri 10 si devono arrivare la eh arriviamo a 31 no 34 32 33 34 madonna c'è vedi quanto ci fa male sto gioco corri crash bravo anche lì vabbè fregati come hai fatto? come hai fatto? senza manco prendere i burghe te buona grande allora aspetta asciuga un attimo il controller perchè lui quando fatica suda allora vai certo bella partenza perchè non lo prende? vabbè testa di cazzo moriamo tanto vabbè vai ma che cazzo? vai ci si può fare non riesco manco a prendere così del tempo io vai si si andrebbe più del tempo così che sono? che sono? che sono? che sono? che sono? silenzio silenzio fuori attenzione sto facendo le provate qua se ce la faccio mi devi dare dei biscotti eh mi devi dare dei biscotti se ce la fa è proprio a dannare ma è così madonna crash grande guarda qui guarda qui guarda qui che merda che merda stronzo stronzo è quello che succede tutto stesso a me allora ora vai vabbè va bene ovunque si giuro se si riuscisse a pigliare quella si farebbe tantissime cose per provate grande c'è guarda calcolato vabbè no ero lì prima a 21 perchè avevo preso anche la da 3 quindi madonna sto cazzo da fare e non posso neanche saltare per cosarmi il percorso eh no perchè si è fermato un attimo stronzo possiamo riuscirci eh vai si dicevi pig save a mezzo infame così a merda perchè lo fa prima l'avevo presa quella scatola di cazzo però sono stronzo crash eh sono stronzo ecco lo posso aprire vai senti io mi ammazzo tanto mi sono ammazzato apposta vai corri buona 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 cazzo frega cazzo io non ti guardo ti giuro non sarà fermato non è successo nulla si però prendilo cazzo mi credo magari se prendendo il rondellino lo faccio comunque di prendere il tempo non so se ti fai il rondellino in aria per tutelare le piccole 3 all'inizio probabile è una provata è molto probabile è una provata agli altri tempi vabbè io mi amm... cazzo stavo a dire mi ammazzo e va via io mi ammazzo perchè ti ammazzo? perchè ti ammazzo? far fare la cosa hai detto se dipende di tutti in aria bisogna che funzionerà certo funzionerà perchè non ne da diritti? si però sono stronzo Crash prendilo che è l'affarino di tempo porca troia è sempre l'ulpa di personale si è sempre l'ulpa sua vaffanculo è una merda a tempo sto livello eh è cattivissimo si l'ho capito ora c'era un motivo perchè vorrei vedere il team appena sono sulla piattaforma tu fammi quick save è F9 appena sono sulla piattaforma alla fine appena sono sulla piattaforma alla fine si si appena sono sulla piattaforma lì alla fine fermo ti dico io quando vai fammi F9 dobbiamo cittare per ricaricare F4 per ricaricare tanto quella da te te l'ho presa quindi muoviti vai no no pronto dimmi si te ero io ero io allora dove sei rimasto? sono partito ora dai grande tanto io sono preso la scatola a notte quindi peggio è passato vabbè muori a questo punto no a questo punto no a questo punto no tu cazzo se io l'ho preso io allora non possiamo andare avanti prendila era fermo no dammi possiamo riuscirci una volta per uno? si si farà tre tentativi per uno vai vabbè poi se si muore subito non vale come tre tentativi quindi intendo se si muore qui e primo tizzo lufo non valgono mai tentativi se si muore un lufo non cazzo non importa lo puoi usare un bucket dai no perchè se mi trovo un terzo diventi immortale e io voglio sfruttare per l'occasione vabbè 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 nooo potremmo diventare immortale usalo vabbè usalo come scusa? usalo un bucket dai lì si può dannare tempo chi ce ne? muoviti eh eh noia figlia eh vabbè 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 fanculo nooo non vale non valeva non valeva non valeva ma dato che lui a volte ci salta sul bordino mi sono detto magari funzionerà no funzionerà madonna crash tua mamma la filosofia del bordino funziona solo per te? si perchè tu puo perchè tu sei perchè tu è fura si così funziona bene terzo tentativo e poi sta a te e se andiamo a buttare no è una bastardata questo livello infame eh è una bastardata è difficile al normale non era vabbè la prima volta è stata difficile perchè noi non riuscivamo a prendere la scatola alla fine ci abbiamo passato gli anni però ti ricordi questo livello fu quello del video da 40 minuti Sì, così, hai visto la mia tappa, non c'è di frega cazzo Tassito, se riuscissi a prendere tutti i bughead diventerai immortale per un tot Non importa, non importa Ora non avrei più i bughead Porca troia No Eh, mi dispiace Lì lì è infame Perché è quel cosino che ti fa spinnare Dove devi saltare il cosino squinnone Però poi, fra te i minuti si spingerà la videocamera, ma va bene Finché non abbiamo finito sto livello, noi la videocamera non la riaccenderemo, sappiatelo Ho quasi finito l'acqua, guardate dopo vuoi da bere Ciao Sì, ciao No, no, scusa No, no, aspetta Come hai fatto a fare quella cosa? Tu non devi fermare almeno quando hai il bughead, sappio Perché con te funziona? Con che si andrà, se c'è i bughead sui tizzi, saltagli addosso Sopra Gli devi saltare sopra Dovevate vedere le sue mani, gente Vabbè, vai, vai Ficciolo, se tu riusciti a tenerti i bughead fino a lì diventeresti immortale No, perché sei il bughead Dammi, dammi Diammi Ficciolo, da Fra minuto sarà morta la videocamera Ciao, pericolo Ciao Almeno finché non la riabbierò Tu un po' liberto intelligente Ti vedrò in fase di editing quello che hai fatto Guarda Ma non importa se diventerai Zitto Avresti un vantaggio perché diventeresti momentaneamente immortale Diventeresti immortabile per un determinato Immortabile Grande Ora Sono immortabile vai Sono immortabile Grande Però Ho preso il rata 3 non so come Perché sei un bug del mortale Potevi fare il bug del mortale Frega Vabbè Vabbè chi se ne No Grande Oh mio dio Ma entra Ho fatto F9 comunque Ad ogni modo ho fatto F9 Ma qui devi fare Sono inutile Vabbè Passa sotto no Ma non posso perché Questo tizio È semi coso Sto tizio È semi coso È semi coso Ho capito Ora hai detto semi coso Perché c'è il cazzo di riccio C'è il cazzo di riccio della merda Siamo a livello Si chiama a livello è vero Sono facile Vabbè lì avrà finito di registrare Vedo che mancano poi i secondi Come ho fatto C'era la fine lì eh L'ho vista C'era la fine Se non muero la fine Non c'è nessuno Porca puttana Questo mettiamo in loop Si Deci sarebbe da fare Un salvataggio Quando sono lì E poi da ricaricarlo Continuamente Però Si Porca troia Per me la pigliamo Quella blu F4 Quella blu la pigliamo Quale quella blu Di tempo blu Si Di tempo blu Ah si Oro no Oro certamente no Però è blu si Vabbè Porca troia Sono Veramente Perché mi hai esettato Perché si vuole morire Te salta solo quando vedi la Te sal Mi ricarica solo quando vedi l'animazione Stai Solo quando vedi l'animazione di morte Quando vedi che mi smolecolizzo Attenzione qui è ricco Attenzione Io ci faccio Attenzione Ma è uno stronzo Ora allenti un po' prima Vai Vai L'avremo preso Quanto? Oh Almeno il blu si è preso Cazzo Almeno il blu Oh mio dio No no Lo devi segnare Aaaaa Aaaaa Aaaaa